Ciao a tutti amici e nemici di Outcast, Alex Camilleri qua da Malmo in Svezia. Tra pochissimo tempo, in realtà un giorno e poche ore, comincerà il viaggio della speranza verso San Francisco. Chi di voi non mi conosce, sono uno sviluppatore di videogiochi che spesso, ma anche non proprio spesso, scrive di videogiochi qua e là. Recentemente su Outcast ho parlato di Last Guardian. Detto questo mi unirò alla ciurma di Outcast, nonostante io vado a San Francisco per una questione più legata appunto allo sviluppo di videogiochi, ai rapporti con altri sviluppatori e publisher. E ho scoperto ieri che il mio volo da... io parto da Copenhagen, faccio Copenhagen-Londra, Londra-San Francisco. E ho scoperto solo ieri che il mio volo da Copenhagen a Londra parte alle 6 e mezza del mattino, quindi sono rovinatissimo. Sono rovinatissimo e non so bene cosa fare, ma boh, dovrei farcela. Se non mi vedete più nei video, probabilmente è perché non ce l'ho fatta. Va bene, per me è video corto perché, boh, ho poco da dire finché non siamo a San Francisco. Un saluto a tutti, ciao ciao.